Nei prossimi minuti vi portiamo a teatro, anzi in ben due teatri, perché ci sono due spettacoli in programmazione a Roma che vedono la regia di Nini Bruschetta, intanto noi diamo il benvenuto e il bentornato qui a Radio Città Futura Nini Bruschetta. Ciao a tutti. Buon pomeriggio. Due spettacoli, uno intitolato Vicini di Stalla, che è al Teatro dei Servi fino al prossimo 5 di gennaio e un altro dal titolo, insomma per me quasi impronunciabile, ma ci troverò Piscistocco a Ghiotta, che è dal dialetto messinese, e al Teatro della Cometa, in questo caso fino all'8 di gennaio. Intanto l'impresa, insomma stare a teatro con due spettacoli, insomma è già un bel impegno. È più un caso che un'impresa, perché Vicini di Stalla ha debuttato già a novembre, poi è stato quasi un mese a Milano, e quindi diciamo è uno spettacolo che arriva a Roma, e casualmente arriva insieme a Piscistocco a Ghiotta, che a sua volta ha debuttato l'anno scorso, e invece lo riprendiamo stasera. Insomma partiamo da Vicini di Stalla, insomma uno spettacolo che a che fare si intuisce già dal titolo con il Natale. Allora, intanto dico perché ho fatto questo spettacolo, perché questo non è uno spettacolo, diciamo, che io avevo programmato, non fa parte del lavoro che io faccio con la compagnia ordinariamente, e mi è stato proposto da questo autore, che mi ha, come fanno spesso gli autori giovani e bravi secondo me, mi ha tampinato, e a un certo punto io ho finito di leggerlo a Torino, e ho visto che era un meccanismo teatrale incredibile, veramente, poi assolutamente tradizionale, senza nessuna, diciamo, novità drammaturgica, eccetera, proprio una struttura tradizionale, la Edoardo, diciamo, scritta in napoletano tra l'altro, e brillantissimo. Quando nel momento in cui ho finito di leggerlo ho detto, è fantastico, veramente incredibile sto testo, e mi telefona lui, e nel momento in cui mi telefona e dico, sì è bellissimo, guarda, mi piace moltissimo, però non lo posso produrre, pensavo che lo volesse prodotto, dico, non voglio che fai la regia, e io istintivamente ho detto sì, poi chiaramente me ne sono pentito dopo, quando ho saputo con l'era la paga, però mi sembra assolutamente importante. Però bisogna sostenere le nuove idee, no? Fondamentale, poi giovani veri, di grande livello come Antonio, assolutamente. Vogliamo raccontare un po' la storia di vicini di Stato? La storia è talmente complessa, perché è ben scritta, come dicevo prima, che è in qualche modo irraccontabile, la cosa in sé è che questi due pastori che hanno qualcosa da nascondere arrivano in Palestina e a Bethlehem affittano una stalla vicino a una prostituta da una parte, da un'altra parte a un certo punto loro cedono la loro stalla a una famiglia che è arrivata, che è chiaramente la famiglia di Gesù, la Madonna San Giuseppe, e insomma questo crea un meccanismo di equivoci straordinari che si incrocia con la strage degli innocenti e racconta anche, se vuoi, uno squarcio culturale e interessante, sia dal punto di vista della napoletanità che racconta Antonio e Francesco, che è l'altro autore Francesco Stella, nel testo sia dal punto di vista di quello che è comunque una tradizione a cui noi siamo fortemente legati e che comunque è una grande tradizione orientale. Fa riflettere ed è uno spettacolo che prende quella metafora lì. Sì, mi preoccupo molto quando qualcuno dice uno spettacolo e fa ridere e fa riflettere, questo secondo me è una bella commedia, poi il fatto secondo me per riflettere è uno spettacolo di teatro popolare, lo ritengo importante, tra l'altro anche l'altro spettacolo che faccio alla Cometa ha questo aspetto, rispetto tu conosci bene il lavoro che io faccio sempre, che è sempre vicino al teatro civile, politico eccetera. Quello che mi affascina di certi autori italiani che sono, diciamo, da Claudio Fava con cui io lavoro sempre, che invece è molto forte dal punto di vista civile, fino appunto a Gianni Clementi, a Edoardo Erba e Antonio in questo caso, è, diciamo, proprio questa classicità della scrittura, cioè commedie compiute, testi teatrali, compiuti, senza, diciamo, una ricerca che certe volte più che una ricerca è non trovare qualcosa, non trovare la chiusura del tessuto dell'opera. Un altro è uno spettacolo intitolato Piscistocco a Ghiotta, che in realtà è un adattamento da uno spettacolo che, insomma, abbiamo già presentato. Sì, sì, sì. È come nata innanzitutto l'idea di tradurre dal romanesco quello spettacolo? È una, diciamo, una nota che l'autore scrive nel testo, in cui dice giustamente che essendo, diciamo, l'argomento assolutamente nazionale, lui lo scrive in romano, dice ma chiunque lo voglia tradurre lo può fare. Infatti c'è anche una versione napoletana e questa invece è la prima versione siciliana che è stata scritta, poi tradotta, diciamo, da Laura Giacobbe, ovviamente con l'importanza, diciamo, la traduzione in questo caso, perché ovviamente cambiano poi moltissime intenzioni, cioè è un'interpretazione la traduzione. Che ricetta è il Piscistocco a Ghiotta? Il Piscistocco a Ghiotta è, diciamo, il pesce stocco, cioè il merluzzo stoccato e poi rimesso a bagno con il pomodoro, le patate, i capperi e le olive ed è il piatto tipico messinese. Poco a che vedere con il sugo finto ai Gianni Clementi, però. No, cioè, no, niente a che vedere, diciamo che l'unica cosa che io ho trovato di simile è quella che se nel sugo finto non c'è la carne, il pesce stocco a Ghiotta come caratteristica diciamo assurda, cioè quello che è l'unico pesce che non si pesca nello stretto di Messina è però invece il piatto tipico messinese. Questo spettacolo è uno spettacolo del, anzi la prima vera produzione del Teatro della Mela? Sì, del Mela. Del Mela, scusa. Sì, no, perché è un paesino vicino Milazzo, un paesino molto bello che guarda Milazzo e che si chiama Pace del Mela che fa parte di una catena di paesi che stanno nella Valle del Mela quindi noi il teatro l'abbiamo chiamato Del Mela, perché gli abbiamo cambiato nome perché è stata fatta una fondazione da due anni, il teatro operativo fa anche produzione, diciamo aspira a diventare teatro stabile in innovazione, che è una cosa molto difficile, però potrebbe succedere. Che tanto di avventura è il teatro del Mela, almeno ad oggi dopo due anni? Abbiamo fatto, diciamo il teatro lì ha sempre funzionato, ha avuto sempre un'ottima gestione locale e quindi chiaramente quando il teatro viene gestito in modo locale molte volte diventano un contenitore di spettacoli che passano da quella zona dell'Italia. Mentre invece da due anni a questa parte abbiamo cercato di dargli invece un taglio più spinto sulla produzione, sui laboratori e soprattutto anche su un genere di teatro più moderno e meno, diciamo, non i grossi nomi solidi, ma insomma cose anche forti che sono state accolte molto bene, sono stato sempre molto contento. Tipo 4-5-6 che è uno spettacolo di Mattia Torre, molto bello di qualche anno fa, l'abbiamo portato lì, è venuto Michele Riondino con uno spettacolo assolutamente geniale insieme a Fabrizio Ferracane, insomma abbiamo fatto delle cose nuove. Tornando invece, entrando un po' nella storia dei Piscistocca Ghiotta, chi sono Adolorata e Rosaria, le due protagoniste di questo spettacolo? Beh, Adolorata e Rosaria sono due signorine doc, sono scritte in modo, come dicevo prima, classico e tradizionale, sono perfettamente la figura delle due sorelle che lavorano insieme e che vivono insieme in questa vita ovviamente tristissima, che non si può definire diversamente. Però la cosa importante, diciamo che c'è uno scontro di caratteri e che all'interno di questa vita che si svolge tutto in uno spazio chiuso, che ovviamente è un classico teatrale, neanche questo, quando l'azione si svolge in un unico spazio, a parte diciamo il rispetto delle famose unità aristoteliche, è comunque una spinta del ritmo narrativo e quindi si presta molto alla commedia e in questo spazio l'unica cosa che entra è la televisione, che ha un peso assolutamente relativo, e il telefono, che invece ha un peso importante perché attraverso il telefono arrivano delle notizie che vengono sempre dalla stessa persona, tra l'altro che la zia, e queste notizie sconvolgono completamente la vita di queste due donne fino ad arrivare a un punto in cui, diciamo, questo sconvolgimento trova un climax assolutamente drammatico, che poi svela il carattere di tutte e due ovviamente. ci sono anche delle, insomma, Clementi è uno scrittore raffinatissimo, ci sono molti accenni alla società, ai problemi contemporanei, anche all'aspetto economico per esempio, che sfiorano il racconto, non sono mai centrali, però ci sono e sono importanti, c'è anche questa cosa che questa donna è ossessionata dai cinesi, e se ci pensate questa è una condizione che sembra fantasiosa, ma che poi in realtà è molto vera, cioè avendo queste informazioni che ci giungono così frammentate dai media, e non vivendo più la vita all'esterno, nella società di adesso, non c'è bisogno di essere due vecchie signore, si rischia di farsi un'idea attraverso un'informazione così superficiale. L'altra volta una persona a me cara, che io ritengo intelligente, a un certo punto si parlava dell'euro e dell'Europa, dicendo, eh però questa Europa ci ha stancato, e allora gli ho detto, ma come questa Europa ci ha stancato? Perché siccome si sente, si sente dire che l'euro è un problema, allora uno si sente autorizzato a dire, però l'Europa è un problema. L'Europa, l'euro ci ha rovinato. Un attimo, aspetto un attimo. Ragioniamo. E loro sono due persone che invece rappresentano appieno questa mentalità, cioè sono completamente infarcite di questa superficialità della conoscenza della vita. E anche nelle intenzioni di Gianni Clemente, insomma, sono due, diciamo, ecco, figure tipo, che possono essere spostate da sud al nord. Questo poi ovviamente dal punto di vista tecnico, narrativo, è fantastico, lui ha una scrittura brillante, soprattutto nei dialoghi, che portano sempre avanti la storia, e in realtà racconta pochissimo, riempendolo di tanto invece, cioè racconta poco nel senso che racconta una situazione in cui non avviene praticamente nulla, però tutto quello che avviene invece diventa enorme. Allora, grazie a Nini Bruschetta per essere stato con noi. Grazie a voi. Ciao.